ciao ragazze ciao ragazze oggi in questo tutorial vi voglio mostrare come realizzare questo punto che ho trovato sul web con nessuna mia mia invenzione o creazione mi piaceva perché devo realizzare un cardigan che però diciamo funge anche da capospalla è su commissione di mia sorella che voleva appunto un cardigan che sembrasse un capospalla quindi una classica giacca quindi con il collo e il bottoncino sfiancata e quindi sarà realizzata in modo diverso dal solito quindi non il top down ma a pannelli quindi questo io ho iniziato il primo quarto dato che ci sarà il punto per la vita dove andremo a diminuire le maglie voglio realizzare il primo pannello per farvi vedere di che cosa sto parlando e insieme realizzeremo l'altro quarto che sarà chiaramente speculare quindi ci saranno i due quarti separati del davanti il terzo quarto di dietro che chiaramente è tutto un pezzo e poi le maniche e il collo a parte quindi questo è il punto non so se con questo tipo di lana che ho scelto si vede bene ma è molto carino è un multiplo di tre si sviluppa su quattro ferri che sono molto semplici però penso che si notino queste queste v che creano un bello spessore sembrano quasi tridimensionali però adesso vi faccio vedere con un colore chiaro come realizzare il punto allora io ho messo su è un multiplo di tre quindi 15 maglie più due di vivagno ho fatto due giri di legaccio per dare sostegno al mio lavoro allora iniziamo la prima maglia di vivagno in questo caso io la passo senza lavorarla quindi dovremo lavorare le maglie tre a tre allora la prima maglia entriamo e facciamo due doppi gettati e portiamo su vedete che cosa si è formato ok e gli altri due a dritto di nuovo entro due gettati e esco fuori il ferro due dritti ancora entro due doppi gettati e due dritti entro due doppi gettati ed esco e due dritti due dritti ancora è il vivagno che lavorerò a dritto ma si può lavorare anche a rovescio ok secondo giro maglia di vivagno si passa adesso le maglie a rovescio le lavoreremo a rovescio e adesso ci troviamo su questa maglia che praticamente non è altro che una maglia allungata quindi passiamo il filo davanti come se volessimo lavorare anche qui a rovescio prendiamo questa maglia solleviamo il filo e quindi abbiamo la maglia allungata dietro e il filo davanti riportiamo il filo davanti e lavoriamo normalmente le due maglie a rovescio prendo un po di filo scusatemi allora di nuovo filo davanti entro nella maglia porto davanti il filo al ferro e faccio scivolare la maglia due rovesci ancora entro filo davanti e tiro come vedete poi verrà veramente naturale farlo guardate vi faccio vedere l'ultimo rallentatore entro passo il filo davanti al ferro e tiro maglia di vivagno a dritto adesso vedete che situazione ci troviamo questa maglia allungata così libera tra un po vedrete che la andremo a bloccare vivagno passo quindi questa maglia cosa facciamo la prendiamo come se la dovessimo lavorare al rovescio ma la passiamo le due maglie a dritto passo la maglia e due maglie a dritto passo la maglia qui vado molto velocemente perché è facilissimo quindi non dovete né girare e né niente prendete e passate maglia di vivagno a dritto ultimo giro passo la maglia di vivagno le due maglie a rovescio adesso le lavoreremo a dritto mentre la maglia vedete questa maglia allungata libera qui la andremo a bloccare a rovescio quindi le due maglie a dritto la maglia allungata rovescio 2 maglie a dritto questa rovescio 2 a dritto rovescio maglia di vivagno vedete e così sarà per tutti i ferri adesso abbiamo concluso le primi 4 ferri e proseguiremo sempre nello stesso modo fino ad ottenere quello che avete visto sul mio quarto che chiaramente si vede poco ma vi assicuro che guardandolo dal vivo si nota molto bene il lavoro allora io lavorerò qualche altro giro così per farvelo vedere completo perché chiaramente con un unico passaggio si vede poco ho lavorato qualche altro giro e vedete che cosa ho tenuto a mio parere è davvero molto carino questo punto mi è piaciuto molto appena l'ho visto ed è semplicissimo da fare basta soltanto prenderci la mano quindi come vedete si formano queste specie di cellette guardate sembrano quasi dei vuoti e poi queste treccine chiamiamole così in rilievo anche in realtà non lo sono ma è questo fatto della maglia allungata soprattutto e del passaggio senza lavorare all'inizio e bloccarla in seguito che crea queste specie di celle quindi queste cellette vuote questi quadratini vuoti più queste treccine quindi vedete anche bello morbido corposo quindi spero che il tutorial vi sia piaciuto che il punto sia di vostro gradimento e poi ci vedremo successivamente per realizzare il cardigan insieme ciao buona giornata